Scorre ancora sangue sulle strade piacentine un'altra vittima soli due giorni dal tragico incidente a Zena di Carpaneto dove è deceduta una donna di 71 anni. La vita di Daniele Moletti, 37enne di Fontana Fredda, si è spezzata in uno schianto fatale avvenuto nella notte. Era da poco passata mezzanotte quando l'automobile di Daniele è uscita di strada a Roveleto di Cadeo, lungo la via che porta a Chero. Il conducente dell'Audi A3 ha perso il controllo ed è finito fuoristrada in un canale di scolo. La sua auto si è ribaltata più volte e dopo qualche metro si è fermata nel canale. Ancora da chiarire le cause dell'incidente che è avvenuto in una curva sulla strada. Il 37enne originario di Fontana stava tornando a casa quando improvvisamente ha perso il controllo, forse a causa di un colpo di sonno o di un malore. Daniele Moletti è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. I vigili del fuoco lo hanno liberato e i sanitari del 118 lo hanno portato all'ospedale di Fiorenzuola dove è stato ricoverato in condizioni disperate. Purtroppo le ferite riportate nello scontro non gli hanno lasciato scampo. Fontana Freddo oggi è in lutto per la morte del 37enne che lascia i due genitori.